Ciao, sono Janet Quischietto, artista performativa di Guerlesque, e lei è l'incione, la mia candidatura. Sono partita da Milano, che è la mia città natale, per poi conquistare tutto il mondo, e mi esibisco in teatri, varietà. Diciamo che il Guerlesque è la mia passione, ma appunto poi di questa passione l'ho fatto anche il mio lavoro, il mio lavoro di cura. Ho esibito tutta la coreografia, perfettamente, stavo vivendo proprio il mio momento di gloria, con sotto tutti i miei invitati, tutte le persone che volevo lì presenti quel momento importantissimo per me, e alla fine proprio il reggisena non si è aperto. E lo che mi chiedono spesso è se effettivamente appartengo a una famiglia di cercenzi o di artisti, ma che a realtà erano assolutamente così, infatti sono sempre stata un po' guardata nella serie, nella mia famiglia, ma davvero questo è il tuo amore. Ho veramente trovato quella che è la mia professione a 360, cioè essere me stessa, esprimere me stessa, che poi è anche il lusso dell'essere donna oggi. Quello che mi piace tantissimo è avere sempre una lingerie che sia una seconda pelle, quindi qualcosa di più proprio valorizziva, ad avvallare le forme del corpo, ma che non le trasformino troppo. Il tabù che io non ho assolutamente è quello dell'anilità, quindi per me andare in giro senza vestiti piuttosto di solo in lingerie, eccetera, per me è proprio come dire, ma io ho la mia pelle, io ho la mia lingerie, ho i miei tatuaggi.